Inizio complicatissimo per la SPAL Cordovado di mister Bobo Sonego, le prime tre partite tra Coppa e Campionato parlano di nove gol subiti e solo uno siglato e con lo Zaule non va assolutamente bene. Bene parte con questa girata Miot, attento per Essoni, poi è tutto facile, il lancio in avanti di Girardini per Menichini, palla al centro, deve solo spingere in rete lo schiavo, i gol dello Zaule arrivano appunto con questi affondi la difesa della SPAL, fa troppa fatica a contenere, ancora Girardini, Miot sulla destra, mette al centro Menichini, spinge in rete, sono gol fotocopia, Poi questi spazi evidenti, cerca il Tris, così lo Zaule, l'uscita di Peresoni fuori tempo di Costa, il Rosso, brutto intervento anche se probabilmente involontario e poi arriva il 3-0 con la SPAL Cordovado anche in 10, assist di Spinelli, Menichini sigla la sua doppietta personale, finisce 3-0.